Diablo, dommage, i francesi parlano una scelta, si arriva a dire è finita la diavola, mi dispiace, pare vero che gli dispiace, e chi ci crede? Chi si è che siamo battuti sette anni fa, vuoi essere venuti, gli stavo tenendo nera come sette anni fa, stavo tenendo un giudizio, e ce lo devono fare scontato. Oggi, 11 novembre 1806, mi aspetta di Trabucca, ma a me, di morirmi alla fine, non è che mi importa tanto, tanto tutti quanti andavamo a morire, o prima Europa, io mi potevo essere morto già nel 1799, una scopertata, tanti compagni miei hanno fatto che alla fine andano. Ma poteva essere successo pure questa volta, una cannonata a sora, una cannonata a tina, niente, le patate non sono volute a cucire, loro a dire, io a quello che mando. La cosa che mi dà amici, è tutti i giri che ci sta presso, sono già salutato molto, ma i due figli. Per loro è una scopertata, mi dispiace, però lo sapevo pure che a chi non ci sta, non ci serve. E se tieni a campare, campano pure, senza me. E' cominciata la storia, sono arrivati due preti, chi sono due preti, la fanno per il mestiere, per accompagnare i condannati a morte. Perché ce ne frega loro. O so fra diavolo, o so zì Francesca, che dice la stessa cosa. Ma ci sono pure divertiti a impecciargliare i pochi capi con le chiacchiere, ma mi sa che non c'è ne capito niente. Comunque alla fine mi sono confessato, mi sono fatto la comunione. Mi hanno portato pure alla messa. Ci sono sentito la messa, è l'ora che ci stava andato prete. Ma anch'essa sapeva quello che teneva dire, il che poteva dire. Le cose stanno nascite. Alla fine ci siamo abbiati per le tre bocche. Fuori tutta la gente che mi chiamava, chi mi voleva toccare, chi mi applaudeva, chi mi festiava nel casino che non fareva mai. Ma a me tutte queste chiacchiere non mi hanno mai piaciute tanto. Io penso che una o tresca o spicciolata. Le chiacchiere stanno a zero. E ora ci abbiamo. Più a nanzi, già si vede i trabuccoli che ballano. Ma si sente con la scoppettata. Ma si sente una poca di casino di gente e qualcuno sta a cantare pure la canzone mia. E la canzone di un danno. Ma un busteva in una macera, spara a scoppetta fino a massera. Ma un busteva in una mura, spara a scoppetta, non ti anche paura. E se non la riconosce la gente mia. Perché noi siamo quello che è successo nel 1799, sette anni fa. Noi siamo quella gente di l'occhio. Quella è la storia della gente, quella è la storia mia che rappresenta questa gente. Io mi posso morire, ma tu stai sicuro che pure fra duecent'anni, fra il diavolo si parla ancora. E nessuno si deve ascoltare quello che è successo nel 1799. Perché chi ve lo fa ascoltare? Non vi va bene. Ricordatevi sempre questo. Chi vuol far ascoltare quello che è successo nel 1799, non vi va bene.